Cinque mesi di eventi per festeggiare un'icona della città, il ponte coperto. Il comune di Pavia ha organizzato un calendario di appuntamenti in occasione della ricorrenza del settantesimo anniversario dell'inaugurazione del ponte ricostruito dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. L'inaugurazione sarà il 4 settembre con un allestimento artistico, una data che si spera possa segnare una ripartenza per tutta la città. Si snoderanno tutta una serie di interventi a partire da visite guidate, mostre fotografiche, presentazioni di libri, narrazioni, anche convention barra incontri su quello che è lo sport, sui personaggi sportivi. Quindi tutta una serie, un programma molto ricco che racchiude tanti argomenti ma sempre inerenti al ponte, alla vita che si svolgeva e che si svolge sotto di lui e sopra di lui. Il ponte per Pavia è l'icona, è sicuramente il simbolo della nostra città. I 70 anni sono una data che non ci possiamo dimenticare, di conseguenza abbiamo messo in piedi e ringrazio naturalmente tutti coloro che stanno partecipando e tutti coloro che vogliono partecipare perché ci sono ancora una serie di persone che vogliono creare una serie di iniziative. Quindi sarà un bellissimo periodo, un bellissimo settembre, sperando che naturalmente tutte le cose vadano nel senso giusto. Mi riferisco naturalmente al problema Covid, ma comunque devo dire che c'è stata una grandissima partecipazione, molto calorosa, molto sentita e da parte mia una grandissima soddisfazione. È un'altra operazione che stiamo facendo di coinvolgimento della città intera in tutte le iniziative. E questo ritengo così come è stato per quanto riguarda la nostra estate al castello, il coinvolgimento di tutti in un qualcosa che potrà solo e esclusivamente migliorare nel corso degli anni. In occasione delle celebrazioni dei 70 anni del Ponte Coperto, Autoguidovie distribuirà un biglietto celebrativo che sarà abbinato a una lotteria speciale organizzata dal Comune. È un momento storico in cui Autoguidovie ha voluto dare il suo contributo insieme al Comune di Pavia producendo questi 26.000 biglietti che saranno numerati e che sono stati disegnati dal Maestro Yuku. È fondamentale l'importanza di questo biglietto che dovrà essere conservato perché poi il Comune di Pavia farà una lotteria specifica premi partendo da questi biglietti. Saranno disponibili dal 16 di agosto nelle nostre rivendite gold e all'Infopoint e ovviamente ci sarà una campagna di comunicazione su tutti i nostri canali social, in autostazione, nei monitor e in tutte le 5 pensiline digitali distribuite lungo la città di Pavia.